Che il masagno di Duretta pate indovinar Il suo mister come mai, come mai finì Ma in quel giorno lo studente in bocca lo baciò E fu quel bacio, rivelazione, fu l'ammossione Fu, fu. no dombo ciò scusare d'entrì noi Il nostro corso gratuito la riquezza, si è il figlio rifiorita, la felicità o il sogno di poter amore. Per què dius això?